ciao a tutti benvenuti in un nuovo video oggi andiamo a vedere questo strumento che è l'ultraturax t25 che è un omogenizzatore allora nel video precedente avevamo visto che cos'è questo ovvero l'elemento dispersore questo elemento dispersore va montato qui sotto che cosa dobbiamo fare innanzitutto lo strumento deve essere staccato dalla corrente per maggiore sicurezza svitiamo questa piccola vite inseriamo l'elemento dispersore qui sotto e poi serriamo la vite basta leggermente mezzo giro in modo tale da serrare completamente adesso abbiamo inserito l'elemento dispersore nel nostro ultraturax e questo ci servirà poi per creare le emulsioni per qualsiasi informazioni curiosità o preparazione scrivimi alla cucina chimica che ho già gmail.com e noi ci vediamo al prossimo video